Ciao, sono giorni difficili e ognuno prova a dare quello che ha. Io amo i film, per tutta la vita ho fatto il critico di cinema e vi consiglio allora qualche film che si può trovare in questi giorni di forzato esilio casalingo nelle piattaforme gratuite, per esempio su RaiPlay. Il primo che mi viene in mente è Babel di Alejandro González Iñárritu che è il regista di 21 Grammys, di Amores Perros e di Revenant scritto da Guillermo Arriaga che è un grandissimo sceneggiatore e scrittore. È un film che viaggia nel mondo perché si svolge in Marocco, in America Latina, in Messico e in Giappone e quindi ci fa fare un giro del mondo, sia pure stando sulla nostra poltrona. È interpretato da Brad Pitt e Cate Blanchett, oltre ad attori non professionisti ed è secondo me bellissimo perché è pervaso da una profonda empatia umana. Tutti i personaggi, poi vedrete, sono di fronte a prove del destino, di fronte a momenti di dolore. Ognuno ne viene fuori in modi diversi, ma sempre tutto il film è pervaso da una grande pietà verso l'uomo, verso il suo destino, verso i momenti in cui può essere generoso verso altri uomini. Quindi per questo, secondo me, è un grandissimo film girato da un grandissimo regista come Iñárritu, ve lo consiglio.